Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che inizierà a vedere un parziale cambiamento del tempo sulle regioni settentrionali raggiunte da correnti umide occidentali. Come vedete a queste macchine azzurre torna qualche pioggia sull'Italia. Vediamo la previsione della nuvolosità, non sarà solo il nord, anche l'Italia centrale vedrà passare degli annuvolamenti. In realtà nuvole non particolarmente stese compatte, si alterneranno anche a delle scherite, però ripeto torna un po' di variabilità sul nostro paese. Precipitazioni, sarà principalmente il nord a vedere spuntare qualche pioggia, soprattutto a ridosso della fascia alpina prealpina, anche la Sardegna e in parte la Toscana potrà vedere qualche gocciolina. Quindi in definitiva giornata ancora all'insieme del caldo e per carità da nord a sud, solo un leggero caldo delle temperature nelle regioni settentrionali, però al nord e su parte d'Italia centrale qualche nuvole in più, come vedete anche qualche piovasco, più probabile regioni di nord-ovest, Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia. A fine giornata anche il nord-est, ma come vi dicevo qualche gocciolina potrà cadere anche in Sardegna e al mattino pure in Toscana. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.